La reazione di Jonas Berami Uomini e donne, Rama Lila e Jonas Berami, lei incinta, la reazione di lui Uomini e donne, Rama Lila Giustini incinta, la reazione di Jonas Berami L'annuncio della gravidanza di Rama Lila Giustini ha lasciato davvero tutti a bocca aperta L'ex corteggiatrice di Uomini e donne si è sempre presentata come una giovanissima donna con la testa tra le nuvole e mai ci saremmo aspettati l'arrivo di una gravidanza da parte sua, o perlomeno non al momento . In ogni caso, la futura mamma sembra essere super elettrizzata dall'idea di avere presto un bambino da amare, curare e crescere. . Senza dubbio, riuscirà a vivere questo momento della sua vita nel migliore dei modi. . E mentre tutti si chiedono chi sia il padre, poiché sui social non è ancora apparso alcun indizio a riguardo, scopriamo che la Giustini è rimasta in ottimi rapporti anche con il suo ex fidanzato Jonas Berami. . . L'ex tronista spagnolo del trono classico ha commentato un post in cui si parla proprio di Rama e del bambino che aspetta. . La fan dell'ex coppia scrive, e ma non chiedetemi di accettare per Rama Lila un figlio diverso da Zenzi. . Non posso, non ci riesco, è troppo anche per me. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto simpaticamente a queste parole sottolineando il fatto che il tanto famoso Peluche, protagonista della storia d'amore con Berami, sarà per sempre il suo primo genito. . . L'attore è così intervenuto sottolineando il per sempre, fino ad arrivare ad un ironico scambio di messaggi tra i due. . . Trono classico Uomini e Donne, Rama Lila e Jonas Berami ancora amici, la prova. . . Rama ha chiesto al suo ex fidanzato quando avesse intenzione di tenere con sé Zenzi. . . Lui ha risposto con altrettanta simpatia ed ironia. . Alla fine, quando la loro fan ha chiesto se fossero rimasti in buoni rapporti, i diretti interessati non hanno perso un secondo per rispondere, assolutamente. Insomma, nonostante tutto e tutti, l'ex coppia sembra essere stata in grado di mantenere vivo il bene che si sono sempre voluti. . . . . .